Musica Benvenuti su TV Meteo 24, ultimo appuntamento della giornata, una giornata che si sta concludendo all'insegna del tempo, tutto sommato abbastanza tranquillo su gran parte del paese, si sono ancora un po' susseguite delle piogge, delle precipitazioni sulle regioni estreme, meridionali, specialmente sull'area ionica, sul resto del paese abbiamo avuto un po' di nubi sparse, specialmente sul versante adriatico, anche su gran parte del nord, si è trattato anche di nubi medio-basse, dovute a una sorta di elevato tasso di umidità, nebbia, in sollevamento, abbiamo invece avuto delle schiarite maggiori sulle regioni di nord-ovest, su gran parte anche della fascia tirrenica, l'immagine dal satellite elaborata da windy.com ci mostra infatti l'Italia, tutto sommato abbastanza tranquilla, come dicevo, nubi che stanno arrivando comunque a ovest, se guardate proprio a ovest della Sardegna abbiamo questa nuvolosità che si sta avvicinando, nuvolosità che fa capo ad una perturbazione che purtroppo verrà a rovinare un po' i piani delle gite fuori porta per quanto riguarda il fine settimana, già da venerdì il tempo comincerà a fare un po' i capricci, a partire dall'area tirrenica, un qualcosina anche sull'estremo nord-est, ma come dicevo la perturbazione vera e propria attraverserà gran parte subito del centro nord, a partire già dalle prime luci della giornata di lunedì sabato e poi nel corso della giornata qualche pioggia raggiungerà anche le regioni del sud. Discorso piogge, allora saranno sicuramente più intense e importanti sul comparto tirrenico, zone peraltro maggiormente più esposte alle correnti sud-occidentali che accompagnano questa perturbazione. Ci sarà anche un richiamo da scirocco, ciò vuol dire che aumenterà un po' la temperatura, soprattutto da sabato e specialmente su domenica e sulle regioni del sud e gran parte anche del centro. Questo vuol dire che la neve che cadrà in appennino cadrà comunque solo a quote piuttosto alte, solo sull'appennino settentrionale, tosco-emiliano, la neve potrà cadere subito intorno ai 1300-1400 metri sabato per poi alzarsi comunque di quota nella giornata di domenica, ma arriverà un po' di neve anche sulle alpi, ecco qui a quote più basse intorno ai 900-1000 metri. Non saranno nevicate particolarmente copiose ed abbondanti anche perché la perturbazione come dicevo manifesta la sua maggiore intensità soprattutto sul lato più occidentale e sull'area tirrenica del nostro paese. Poi dicevo domenica comincerà a migliorare lentamente il tempo sulle regioni del sud e nel pomeriggio sera qualche spiraglio di miglioramento si registrerà anche lungo il comparto adriatico, mentre invece sul resto d'Italia rigorosamente ombrelli a portata di mano perché continuerà sicuramente a piovere per gran parte della giornata, probabilmente anche fino a tutta la serata, mentre invece si tornerà a vedere qualche segnale di miglioramento a partire dalla giornata di lunedì. Difficile adesso al momento ipotizzare cosa capiterà con precisione la prossima settimana, i centri di calcolo sono un po' indecisi ma stanno cominciando sempre più a propendere per l'arrivo di una nuova perturbazione attesa tra mercoledì e giovedì, insomma tra lunedì e martedì potrebbe esserci un'altra pausa, una giornata simile a quella di oggi, in un contesto climatico peraltro anche relativamente mite per quanto riguarda le regioni del sud e anche parte del centro, il nord continuerà comunque a rimanere sotto una coltre di nubi basse, perciò di sole se ne vedrà davvero poco, anche al centro non se ne vedrà tantissimo, soprattutto nelle aree più interne, si vedrà qualche raggio di sole in più probabilmente lungo le coste, insomma è un contesto meteorologico che ancora una volta non mostra segnali di un ritorno almeno sul medio termine della stabilità atmosferica, continueremo ad avere questi alti e bassi con spesso delle perturbazioni atlantiche pronte a riportare la pioggia e la neve comunque sempre ben accetta in questo periodo, viste ormai le non troppo lontane festività invernali e natalizie, perciò la neve va sempre bene in montagna, ma non solo per una questione di turismo, ma anche per una questione di idrica, per i nostri bacini, per i nostri ghiacciai che dopo l'estate che abbiamo passato hanno preso davvero una brutta 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 batosta, non si sa quando riusciremo a riportare i nostri ghiacciai nella forma che avevamo, relativa forma che avevamo fino a qualche anno fa, staremo a vedere, non ci addentriamo troppo in questioni climatiche, mi fermo qui, l'appuntamento ovviamente, nuovi aggiornamenti seguiranno anche nella giornata di domani, insomma un po' per tutto il weekend. Grazie amici di essere stati in nostra compagnia, a più tardi!